Ah, bene, grazie, il solito ordine, grazie. Quelle sciocchezze che combinate lì sopra, le fanno almeno bene? Senza la terapia sarebbe veramente finita. Oh, forse dovrei portarla all'urdo. Sarebbe tempo a sprecare. È proprio vero, ci sono un sacco di ciarlatani in giro, dicono di fare del bene, quando invece in realtà derubano della povera gente che loro fingono di aiutare. La signora Hudson chiede quando torneranno gli uomini della pulizia. Tra un paio di settimane, tu quando tornerai? Non lo so, è difficile stabilirlo con le nuove chiamate. Così piomberai quando vorrai, anche se a me non farà comodo, eh? Ma certo, fa quello che vuoi, vieni quando credi, fino a quando stiamo qui. Sì, 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 sì.